Bidawesi e Bidawino, questo è il dubbio più forte di Walter Novellino alla vigilia della gara contro Lentella che arriverà domani alle 18 qui al partenio Lombardi. Non dovrebbe variare il modulo, ancora Novellino è pronto a riproporre il 3-5-2 con Lezzerini in porta che prenderà il posto di Radu impegnato con la nazionale rumena, non ritornerà prima di venerdì prossimo. Difesa a tre, costituita da Angawa, Migliorini e ballottaggio tra Kresic e Swager. A centrocampo allora ancora spazio alla Verone a destra e Molina a sinistra con D'Angelo, Di Tacchio e Moretti sulla mediana a meno che il tecnico non decidesse di optare per Molina interno con Bidawesi a sinistra oppure quella che invece sembra la scelta più probabile è di collocare Bidawesi seconda punta ma in questo caso è ballottaggio con Castaldo al fianco di Ardemagni che è tornato al gol in quella di Perugia al Cudi di Perugia ci sta anche salutando e dunque l'obiettivo dell'Avino di Valtenovellino è quello di trovare continuità, continuità che è mancata dall'inizio del campionato e buttarsi definitivamente alle spalle un momento che non è stato sicuramente positivo ma che come ha detto lo stesso tecnico ora bisogna guardare avanti, il riferimento era la partita con la Salernitana e dunque cominciare un nuovo percorso per scalare sempre di più la montagna